Sono Tudaldi Fabrizio, corro nel campionato amatore base 1000 con un R1 Mi trovo abbastanza bene Che categoria fai nel trofeo? 1000 base 1000 base, numero di gara? 153 E ti trovi bene, il titolo finale? Sì, mi trovo bene, ho dei bravi organizzatori, simpatici, diciamo che ci sta bene, come primo anno mi trovo proprio bene Senti, che moto hai? Un R1 Yamaha E i tuoi sponsor principali? I miei sponsor principali sono Fratelli Tedaldi, Tema e Milano Assicurazione E spero di trovare anche degli altri perché se qualcuno ci va a fare avanti, degli adesivi ce ne stanno ancora Senti, come vanno i tempi sul giro? Mi ha messo il giro adesso qui non li ho ancora visti bene, perché anche ho girato stamattina con la pioggia Però speriamo di far meglio il pomeriggio se non piove, adesso non è che sia il massimo Domani per la gara cosa credi di... Mi accontento di fare dai 15 al 20 diciamo Quindi qual è lo spirito con cui tieni a correre in pista? Io prima di tutto per divertirmi, poi si conosce della gente, si sta bene È uno sport un po' avventuroso, però è una bella cosa